Bella a tutti, le clic che vedrete sono presa dai team building di ieri, l'unica cosa che cambierai probabilmente è drum beating per Rhaegor's power Però oltre a questo non cambierai assolutamente niente, penso che il team sia venuto da fuori molto molto bene Se vi è piaciuto il video lasciate mi piace, iscrivetevi e niente, ci vediamo nel prossimo video, bella Cominciamo posizionando l'Eterno in posizione d'attacco Mettiamo l'Eterno in posizione d'attacco, penso che il set migliore però sia quello offensivo, quello che io ho sempre pensato fosse il migliore Posso farlo or... Allora ci sono un po' di set fighe di Eternatus, puoi farlo orb Cioè non voglio giocare quello bulki, quello bulki mi fa che gare O power orb o orb o spex, quindi bisogna un attimo decidere Spex è figo, spex è figo perché comunque è un buon muppu Ci potrebbe essere spex, spex mi piace davvero tanto però... oppure orb Il problema dello spex è che penso che la maggior parte delle volte ti vai a loccare su Dynamics Cannon E poi ovviamente non tocchi più Zacian, che cazzo si serve a loccarti, fa schifo, fa schifo toccarsi Quindi non lo so, non lo so Potremmo provarlo, però potremmo... Cioè spex comunque è figo, spex comunque è figo Ce l'ha vedere... Sì c'è il set che ho visto far meglio per adesso Ci sta pure quell'altro, ci sta pure quello power... power herb mi sembra, come si chiama? Ma è quella che ti fa attaccare subito Sì power herb, power herb pure non è male perché killa Il rifle forse è meglio anche per prote Ma non lo so, cover giù che voglio mettere... Aderemo a scatto sicuro Flamethrower e meteor beam Quindi tre attacchi li abbiamo, potremmo anche mettere i prote facendo orb Oppure prende tutte le kill che deve... Sul sorrino su Landorus... Ah su Landorus... Landorus muore... Landorus muore non è male... Landorus muore non è male... Vediamo un attimo... Landorus... Allora, vediamo un attimo Landorus... Ehm... Ah questo è quello di Gustavo... Spero di sì, spero di sì... Ehm... Eternatus... Vediamo un attimo... Life Orb... Se prende la kill ci sta... Dynamax Cannon... Mmm... Ah però 116... Cioè facciamo 196... Perché non pensi di farlo 252... No ma non prende la kill... Serve lo spex... Serve lo spex in teoria... E poi questo è bulkers pure... Quindi... Non lo so... Secondo me serve lo spex... Allora... Il set è sicuramente... Sludgemon... Eterna Beam... Flamethrower e... E... Dynamax Cannon... Cioè penso sia questo il set... Magari... Si può... Ma Eternam in realtà non è neanche così male... Vediamo che altre mosse speciali ha... Ah... Flash Cannon che non è malissimo... Shadow Ball... Che però... Cioè quando riesce ad attaccare Calyrex... Mai... E poi comunque Dynamax Cannon viene giù... E... No no... Eterna Beam è quella giusta... Se giochi un acciaio... Ci sto bene anche Wave... Esatto... È quello che dicevo... Quello che dicevo... Se giochi un acciaio... Probabilmente tolgo Eterna Beam... Però comunque si può vedere... Di still forte... A parte... Togremaru... Chi è che c'è? Di still forte... Cioè stacataka... Ecco stacataka... Forse ci può stare... Perché alla fine... È una risposta in più a Xernas... A te comunque serve una risposta a Xernas... In quanto... Eternatus non ha la risposta a Xernas... Cioè... Eternatus shot a Xernas... Ma non ha la risposta a Xernas... Perché hanno ficato... Quasi si roba... Quindi non è... Non è semplicissimo... Non è semplicissimo... Secondo me sembra una risposta a Xernas... Quindi... Si potrebbe... Pensare a uno stacca... Si potrebbe pensare a uno stacca... Ehm... Cos'altro... C'è di bello qua... C'è le still non è male... E se ci pensate... Anche una... C'è... Entra sul power... Quindi... No... Stila si realizza bene... Stila si realizza bene... Quindi... C'è... Entra sulle mosse terra... Potrebbe non essere male... Allora... Allora... Facciamo... Per adesso... Per adesso teniamo lui... Wildguard... Leech Seed... Per adesso teniamo così... La... L'uno è neanche malissimo contro i... Coso... Ecco... Lui secondo me... E' molto forte con il busto in difesa... Lui secondo me è molto... Vabbè... L'espera di faremo dopo... Inchi lo metto per forza... E poi... E poi vediamo gli ultimi... Gli ultimi due... Si può sicuramente cambiare... Si può sicuramente cambiare... Però vabbè... Per adesso... Per adesso mettiamo con i due... Praticamente... Ecco... Facciamo un po' di... A parte Eternatus... Facciamo un po' di fatica da toccare Inchi... Quindi... C'è... Ehm... Vabbè... Ushifu... Uscivo però... Non... Non lo consideriamo troppo in questo team... Perché ci sembra... C'è anche Walter che faccia... No... Mi sa che Suicun qua è la risposta... Mett... Perché... Suicun non è male anche perché batte... Coso... Cioè batte... Diciamo che fa bene contro Zashan... Quindi effettivamente... Eternatus Stealer... Rillabung Inchi... Suicun non potrebbe non essere male... Potrebbe non essere male... Si sicuramente... Uno tra Stealer Inchi e Suicun e Gogos... Oppure... Inchi va taunt... Cioè... Inchi comunque... Forse potrebbe avere comunque taunt... Siamo... Siamo a vedere... Mettiamo Sludge Wave... Dark non è male... Non avevo una butta idea... Ci fu Dark... Comunque... Rillabung io metterei knockoff... Cioè... Vabbè... Il set non male... Grassy Glide... Fake out... Due turn... No che farei... Citrus... E lui Gogos potremmo fare... Potremmo fare una cosa del genere... Citrus... Anche se ho già un Gogos più Rillabung... Mi sa che taunt non è male... Taunt non è male anche perché... Coverage Dark non mi serve... Fake out... Bo... Flair Beats... Penso vada bene... Lui Gogos però... Lui Gogos... Snarl... Tearwind... E... Scald... E poi si vede l'ultima... Icewind potrebbe non essere male... Dato che... Si... Icewind potrebbe non essere male... Intanto qua mettiamo se... Schkod... Mettiamo se... Wicked... Sucker... E... Protect... Passare le spread... Se... Mettiamo caso che non vogliamo farlo super veloce... Vogliamo farlo semplicemente più veloce di... Bo... Cartana in realtà non lo giocano... Quindi si scenderebbe... Il benchmark scenderebbe a... Sopra Menshao... Bo... Proviamo... Proviamo... Magari... Proviamo a fare così... 196 più... E abbiamo 68... Quindi... E ci avanza 64... Ho 68 di qua... E lui tira Bimo Blade... Eh però... Non abbiamo tutta sta roba... Non abbiamo tutta sta roba... Vediamo... 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 196... E lui... Quanto è che... Vabbè... Modest... Non ce lo puoi... No... Ma essere più veloce di Wivine non serve... Non serve... Troppo secondo me... Oltre perché abbiamo lo speed control... Comunque... Abbiamo abbastanza speed control... E Wivine non è troppo problema per questo team... Penso... Ehm... Ok... Un po' me... Quanto è che era... 173... Si... Più veloce di... Più veloce di Menshao... Quindi abbiamo 64... 64... Cioè se mettiamo 64... Vediamo il roll di Beemoth... Vediamo il roll di Beemoth... Vediamo il roll di Beemoth... Se mettiamo 64... No... È sempre... È sempre troppo... Sempre troppo... Cioè questo speed va bene no? Perché abbiamo... Abbiamo gli HP giusti... Abbiamo gli HP per... Cosa? Abbiamo gli HP per... Ehm... Il grassi terrain... Abbiamo la difesa che dopo grassi terrain... E leggiamo Bimo Blade... E basta... E basta... Semplicemente questo... Passiamo... Allora... Cioè io... Mi ricordo qual'era la spray... Cioè io... Avevo... Avevo la spray di Celestina... Nel... 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 Stato... L'unico... L'unico qualcosa che aveva... Era quello di reggere due... Momblust Xenna... Se non sbaglio... Ehm... Vediamo... Comunque... In realtà vorrei... Eh però... Se li faccio reggere due boost... In... Cioè se li faccio reggere... Doppio attacco di là... Non è troppo utile... Cioè... Doppio Momblust... Non è troppo utile... Secondo me... In questo metodo è molto più forte... col bus in difesa stila la stila molto forte che un bus in difesa comunque mettere gli metterei semi comunque li metterei semi avrei snarl e più eternato non lo so secondo me non è troppo utile non è non è troppo utile secondo me non è troppo utile effettivamente fargli reggere externo vediamo cos'altro deve reggere stila vabbè reggere chi non penso sia possibile reggerlo cioè forse con l'aspetto che ha messo dubius forse regge forse che è strabulchi special defense però non penso vediamo di 5 296 calma tibalt lo sarei allora forse è fattibile forse è fattibile potevo fargli leggere tibolt però c'è reggo tibolt e cosa gli dico c'è reggo tibolt e non faccio niente in realtà quindi allora stile che facciamo riporto lo portiamo si è che poi messiamo lo portiamo e poi le gilecchi un giocatore gileghi porterebbe il rileghi con tutto questo team probabilmente sì probabilmente sì quindi forse mi conviene farlo reggere vediamo vediamo se no finalmente non è male effettivamente non è male non è male reggirlo però non serve tutto special defense vediamo quanto serve per farglielo reggere ah ok beh la calma non ha senso allora facciamo più difesa come è più difesa meno special art che è in più tipo vediamo però quanto quanto serve qua per farglielo reggere ecco qua 116 124 così legge sempre 228 124 si facciamo così 228 124 così legge sempre tibolt e le gilecchi potrebbe non essere male potrebbe potrebbe effettivamente non essere male sta cosa poi abbiamo un macello di evs ancora disponibili c'è abbiamo 156 non è un prendente male allora 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 io vorrei metterli bus in difesa quindi vorrei avere più difesa quindi magari adaman ci sta perché fa più danni externus adaman ci potrebbe stare perché va più danni externus altro di super curiosità guarda quanto prende externus cioè quanto quanto foxernus più 2 ok già questo no è sempre tutto che io con le leftovers non fa mai tutto che io quindi va bene stavo pensando stavo pensando che naturalmente di comunque vediamo perché effettivamente adaman ci potrebbe stare adaman ci potrebbe stare e il bump a 36 se non sbaglio no sbagliavo il bump a 76 allora ma probabilmente 36 vediamo un attimo vediamo un attimo moombla stavo con le leftovers come vedere almeno con il mio oxenus che non fa danni almeno 4 più ma anche 68 in realtà non penso sia troppo roll di fare tutti che io infatti 2 per cento di fare tutti che io considerando sì i leftovers quindi non è non è troppo un problema vediamo quanto fa evislam perché mi ricordo che evislam faceva un macello io gioco a 76 e faceva faceva evislam cioè adamant a meno uno ovviamente cioè a meno uno in realtà a quel punto fa i semi però vediamo vediamo ma ci resti la cos'altro potrebbe reggere oltre a tibold di coso un tipo di coso vabbè spaw di chiogre penso la regga penso la regga sempre uno spaw di chiogre appunto uno spaw di chiogre lo reggi sempre quindi va bene cos'altro c'è ma qua mi sa che non c'è nient'altro no ovviamente non c'è nient'altro va bene allora quindi questo special difesa va bene se metti il valore in difesa parte parte in difesa parte in difesa effettivamente effettivamente parte in difesa perché c'è si segue questo ordine qua si parte qui all'attacco vai all'attacco e l'ultimo c'è la speed se non sbaglio vediamo un attimo ecco magari potrebbe essere utile vedere questo l'anno qua in ciro di febis fostuano qua stila 108 perché se ne reggiamo due a meno infatti ne reggiamo sempre cioè così è perfetto se metto questi speed se faccio così più veloce di benshao in tailwind però ciro stila lo porto in quel matchup lì cioè in quel matchup lì pensavo di portare lì contro cali contro cali per soli portare sui con un cifu eternatus potrei portare stila forse forse potrebbe non essere male portare stila però sui con un cifu eternatus sicuro forse anche forse anche stila potrebbe non essere male 87 è una buona statistica quindi potrebbe potremmo andare bene se spede penso potrebbe andare bene 4 più in attacco si penso vada bene penso vada bene passiamo passiamo a rillaboom passiamo a rillaboom ok giocano questo speed qua che è quella che giocavo anch'io in realtà è quella che giocavo anch'io che regge estra bene più cc da .1 di campo però in realtà non ci serve sta roba quindi la mettiamo semplicemente perché non abbiamo calcoli disponibili vabbè inci non mi serve leggere menshaw perché non ha senso cioè non lo porto contro cali rex quindi non mi serve fare leggere menshaw a questo punto e però contro xana sia che porto porterò eternatus stila sui con sicuro ma mi sa che porto pure inci perché se hanno mungus è buono fare taunt quindi potrei fargli la sped carriage externas però stavolta potrei fargli una red che uno sped che è però ho taunt quindi è utile farlo un pochino più veloce cosa inci è abbastanza è abbastanza più utile farlo io farei un attimo più in realtà mungus veloce non esiste più però fare taunt perché gli altri inci sono un po' più veloci non è male comunque il problema è che se lo faccio più veloce cioè faccio tipo così metti che faccio sosped qua potrei fare una cosa del genere forse così reggo cc anche se cc ultimamente sta calando un po' in usage una cosa del genere potrebbe andare bene perché sono abbastanza veloci con inci vediamo quanto è il calcolo su externas considerando che comunque il plan è fargli snull cioè il plan non è mai prendersela più 0 per quello vorrei fargli 156 vediamo 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 156 vabbè il mio externas fa 0 danni l'oxiana fa 0 danni però va bene lo stesso va bene lo stesso dai si allora questa spell penso vada bene perché siamo veloci e leggiamo uzashen penso e poi si il piano è non prendersi mai il coso più 0 il danno più 0 non bisogna mai prenderselo ok passiamo vabbè ucifu hp per il campo bene fatto e ora passiamo manca solamente su ikun penso penso manchi solamente su ikun a sto punto vabbè comunque su ikun su ikun così potrebbe andar bene in teoria cioè forse posso togliere un po' di speed giusto per reagire un po' meglio cioè magari guardo danni di grassi glide vediamo i danni di grassi glide se tengo così rillaboom ma in realtà mi sa che reggo sempre lo stesso cioè minaco seed però che cazzo il gioco anche minaco seed lo reggo già così lo reggo già così ah dici con il tuo ikun ok va bene ok così mi sembra vada bene in realtà 117 allora vediamo mensha o meno 1 mensha o meno 1 quindi 172 per 2 terzi fa 114 quindi no a noi basterebbe 115 in realtà basterebbe 115 quindi mettiamo su speed che praticamente quindi praticamente penso vada bene va bene ecco il team ecco il team